notizia dell'asse a bravo ci avrebbe chiesto notizie su all'entourage diversi per le peste intanto l'inter più che altro barotta così io non bolla non bollano perché vogliono cash senza contropartite e se va avanti così mi sa che lukaku si tiene anche se io ho un bruttissimo presenti un po ripeto da giorni di bella perché mancano 15 giorni tu vuoi vedere un attaccante ma se manco se riesci a impiazzarlo perché mancano 15 giorni al di inizio del campionato poco come ogni 16 giorni 7 giorni alla fine calciomercato se non sai chi cazzo prendere o mi prendi vlaovic o il per il zapato ma vero qualcuno per di se li vede davvero lucano poi se adesso l'altro addobbe venga magari gioca per i tifosi non pezzare cosa aveva loro sti cazzati però il calcio così calcio così quando dicono più soldi vanno io ci sono sperato ragioni ma il brutto presentimento cresce secondo anche sky sport lui e che quello ritardico i dirigenti dell'interno marotta ausilio e i zaghi anche perché c'è anche i zaghi hanno rifiutato la proposta di 110 milioni di più la contropartita che ha zappagosta o emerson adesso noi manca un attaccante se vediamo lukaku già teme sono saprò cosa sono per te esuberi anche loro grazie o ci date dai ad e se può parlare oppure si ti amo lukaku ma te muovi il caro bravo vici intanto bravo vuole notizie su messi perché visto che ha proprio con zesi incolato non vuole anche però secondo me messi ma l'inter una cosa c'è se non sono tre miei attaccanti giro per il mondo c'è oraldo c'è gabrie jesus c'è richardison c'è grisman c'è beller d'era c'è c'è walkie sono tanti attaccanti giro e tu mi rompi il cazza lì per lukaku quel lukaku che tu hai sputterato qualche anno fa di certo che a sky se è venuto a Ludovic, c'era l'Everton, non mi ricordo, quindi stanza qua avrà senso, mi sono ottenuto e attaccati in giro mi era un peggio da voi, questo Stavraovic è strano, a parte che il calcio inglese è strano, perché vanno a perdere 177 milioni per Grittich, vanno a perdere 80 milioni per i difensori lì, Wuka e Screno, adesso forse per Lukaku c'è 30 milioni, il calcio inglese è cavante, sia precando gli sciricchi, sia precando i soldi, inserirà a parte la Juventus, ma anche le piani debiti, non c'è nessuno che spende così tanto, vogliono degli sciricchi, se gli dicono, voglio l'Inter, voglio l'Iventus, voglio il Milano, voglio il Napoli, vogliono comprare, che hanno miliardi di euro e almeno comprono che cazzo vogliono, perché sennò, se noi stiamo ancora così e l'Inglese la davanta solo di milioni e di giocatori, il Champions in Europa non c'erano sempre figure di bella, tranne quella nazionale, perché il nazionale l'avete presa nel culo, cari inglesi, però un'altra cosa, il calcio dei tifosi, il calcio del popolo alla Superliga, è proprio Messi, però di Maria, c'è però Cosa, Kimi, Guadalupe, Sondaruba, Ravus, compagnia bella, però la Superliga è la bella, il calcio dei tifosi del PSG che spende e spende a miliardi di euro ogni anno e non vince per un cazzo, vabbò, vi saluto, capito, per questo video, speriamo bene perché io mi fio di prima volta, calma otta, calosino, calizzari, non bollate, perché fuori siamo sempre vicino a voi perché sappiamo quanto volete aiutare l'Inter, volete bene l'Inter, ma raga e forza l'Inter.